Salve servitori e ben ritrovati sul canale. Siete confusi, straniti, impazienti di conoscere che cosa è questo nuovo video? Iniziamo dicendo che sono ormai sei mesi che il canale è teoricamente non più attivo. Dico teoricamente perché in realtà ho comunque pubblicato diversa roba nel corso di questi mesi anche se principalmente era roba che mi era stata mandata da voi fan o altre cose legate comunque alle nuove uscite o semplici resoconti di tornei o partite fatte dal vivo. Sicuramente rispetto alla cadenza bisettimanale che avevo prima di smettere col canale erano di meno però ho comunque continuato a pubblicare il più possibile quando potevo video di vario genere sempre comunque che rimandassero a quelli a cui vi avevo abituato. Comunque stavolta non farò premesse mirabolanti lunghissime e andrò diretto quello che vi devo dire di preciso che riguarda esattamente l'attività del canale futura. Per farla breve l'attività del canale udite udite riprenderà però fermi tutti non riprenderà nella stessa maniera di prima per diverse ragioni che ora vado ad esplicarvi. Ricordiamo innanzitutto le ragioni per il quale avevo smesso più o meno l'attività del canale o comunque rallentata di parecchio. Il primo motivo che sono due insieme erano il tempo e la voglia perché un video soprattutto i miei che sono lunghi e spesso gente si lamenta di questa cosa perché evidentemente a suon di guardare cazzate da tre secondi su tiktok hanno la soglia d'attenzione di un lombrico. Complice forse anche la mia voce calda e avvolgente come una pancera elastica ma per quella non posso farci nulla. Comunque dietro a un video anche solo di 15 20 minuti 30 minuti se non di più c'è comunque sempre dell'impegno e del tempo da spenderci anche solo per stare a pensare quale video fare come farlo quando farlo perché farlo. Quindi effettivamente registrarlo dopodiché mettersi a montarlo farlo così farlo cosa e chiaramente essendo una cosa fatta pressoché a titolo gratuito dato che youtube ti dà al massimo un paio di spicci ogni tanto forse e se ti va bene chiaramente è una cosa che alla lunga può diventare più pesante di quello che sembri. Anche perché ripeto ho fatto un lungo periodo in cui pubblicavo due video alla settimana e quindi cominciavano ad essere un po'. Altro motivo per cui avevo smesso semplicemente il gioco in sé non sono mai stato un gran giocatore men che meno competitivo non mi piace per niente come è andato a involversi il gioco in particolare negli ultimi anni. I retroformati vanno bene sono carini tutto quanto ma comunque non è come si giocava veramente una volta. E ultimo motivo ma non ultimo chiaramente Yu-Gi-Oh! e le figurine in generale non sono di certo il mio interesse primario nella vita ma neanche secondario e probabilmente nemmeno terziario. Perciò avevo deciso di darci un taglio e pubblicare solo ogni tanto raramente quando avrei avuto contenuti da portare e voglia di fare il tutto. A quel punto come già detto mi è successo diverse volte che qualcuno mi mandasse roba da aprire o comunque per cui farci il video e chiaramente li ho fatti volentieri a quel punto. Invece parlando delle ragioni per le quali l'attività del canale riprenderà un po' più regolarmente. Ci sono il fatto che comunque si sia creata una comunità di servitori non indifferente e che sicuramente non mi aspettavo nel momento in cui ho creato il canale che come già detto altre volte era nato soltanto come mezzo per fare delle coglionate a tema Yu-Gi-Oh! Poi comunque il fatto che in questi mesi nonostante abbia avuto sicuramente da fare ma ho continuato a dover tra virgolette bazzicare l'ambiente anche solo per il fatto che comunque vendo le suddette figurine e quindi qualcuno dovrà pure starci dietro per appunto venderle e quel qualcuno sono io. E ultima ma non ultima ragione con la quale mi allaccio all'argomento successivo di questo video il fatto che il canale non tratterà più soltanto Yu-Gi-Oh! Anche se rimarrà l'argomento principale ma inizierò a parlare anche di altre cose perché sinceramente stare sempre a parlare di Yu-Gi-Oh! mi rompe il cazzo. Tratterò di altri giochi di carte come Magic che per molti versi mi piace più di Yu-Gi-Oh! E Pokémon che non lo conosco così bene non mi piace così tanto però qualcosa conosco e qualche spacchettamento o cazzate varie ogni tanto si può portare. Non escludo che anche altri giochi di figurine del passato magari anche poco conosciuti non trovino ogni tanto posto su questo canale retrogrado. Comunque se mi avete conosciuto e apprezzato principalmente grazie agli spacchettamenti di Yu-Gi-Oh! Magari di roba nuova e quindi agli insulti ad essi connessi sappiate che ogni tanto continueranno comunque ad esserci anche quelli sempre che le mie finanze lo permettano che il problema tanto è sempre quello. Riguardo a Magic se vi può interessare potranno esserci video di spacchettamenti di set vecchi quando possibile perché anche in quel caso le finanze sono un problema. Qualche video incentrato sui vecchi formati più che altro il pre-modern che è quello che posso dire di conoscere un pochetto meglio di altri. E ogni tanto si sarà gradita anche qualche lista di mazzi basilari ovviamente molto for fun fatta per giocare con altri miei sodali. Poi potranno esserci video in cui semplicemente parlo e dico la mia opinione su argomenti in particolare. Magari cosa ne penso del formato Gotto, del formato Edison o di altri argomenti legati al collezionismo che comunque in questo canale non abbiamo mai trattato più di tanto nonostante sia l'aspetto che mi interessa di più riguardo le figurine. E a questo proposito dato che tante volte me l'avete chiesto nei commenti sì prima o poi arriverà anche un lunghissimo video anzi molto probabilmente sarà una serie di video sulla mia collezione di Yu-Gi-Oh! Sarà probabilmente uno speciale abbastanza grosso quindi in ogni caso sarà comunque tra parecchio tempo ancora però sappiate che arriverà. Altri video che potrebbero esserci potrebbero ogni tanto tornare anche persino addirittura alcune liste di mazzi Gotto o Edison. Saranno molto rare perché comunque come già detto in altri video bene o male io sto vendendo la maggior parte delle mie carte nella mia collezione e tutto quanto però un po' di figurine per montare i mazzi miei preferiti comunque le tengo e quindi magari potrei ogni tanto farveli vedere. E magari anche in versione leggermente un pochetto un po' più seria rispetto a come ve le ho portate sul canale che erano quasi sempre delle versioni abbastanza for fun. Da qui comunque il motivo del cambio di nome del canale che non è più old school Yu-Gi-Oh! Italia ma GCC Italia perché ripeto Yu-Gi-Oh! rimarrà preponderante ma ci occuperemo anche degli altri GCC Magic in particolare. Ma in più potranno esserci anche altri video non riguardanti neanche i giochi di carte. Saranno sempre comunque video magari a tema nostalgico tipo gameplay di vecchi videogiochi o altre cose basilari anni 90 barra primi 2000 che è sempre il periodo che noi preferiamo. Insomma il canale diventerà un po' più vario negli argomenti in modo che io stesso non mi annoi troppo a parlare sempre e solo di Yu-Gi-Oh! Perché questa cosa non delude eccessivamente quelli monotematici che mi seguono soltanto per quello in caso vabbè seguirete solo i video di Yu-Gi-Oh! E tutti gli altri metterete pollice in giù e chiuderete tutto. Però un'altra novità riguardo ai futuri contenuti del canale che non riguarda i video o quasi. Per quel che riguarda il giocare effettivamente alle figurine di Yu-Gi-Oh! Cercherò di farlo quando potrò attraverso delle dirette qui sul canale. Ne ho fatte molto poche nel giro della breve vita del canale ma penso che siano la maniera migliore per mettersi a giocare magari qualche partita online su Edo Pro far vedere qualche mazzo del canale soprattutto quelli magari dei primi tempi in cui ancora non facevo il replay o le mani di prova e magari rimaneggiarli un minimo e vedere di farli in versione un pochetto più seria anche in questo caso. Queste dirette non saranno fatte comunque spessissimo perché avrò bisogno di tempo, avrò bisogno di voglia soprattutto, voglia di giocare anche. In ogni caso non dureranno tantissimo perché appunto io non sono un gran giocatore, lo ribadisco e dopo tre quarti d'ora barra un'ora già per me è troppo di giocare. Quindi me la schianto lì solitamente. Vabbè riguardo ai futuri contenuti del canale vi ho spiegato il tutto anche se alla fine potevo semplicemente riassumere il tutto con una frase che non ho assolutamente mai detto in questo canale. Ovvero il canale mio faccio quello che mi pare. Riguardo alla programmazione come già detto due video alla settimana erano un po' tanti quindi farò il possibile per pubblicarne uno alla settimana. Quando non riuscirò, eh pazienza, mi spiace ma vi toccherà guardare qualche altro youtuber. Comunque cercherò di fare come giorno fisso il mercoledì notte, quindi mercoledì a mezzanotte. Questo per quel che riguarda il video settimanale, tra virgolette, regolare. Ovviamente i video della posta retrograda potranno essere imprevisti e a qualsiasi orario e comunque potranno essere anche relativamente spesso dato che comunque sono video molto brevi sia da registrare che da montare. Per il resto non preoccupatevi che questo canale rimarrà tossico, retrogrado e stronzo e altri pregi che mi sono stati lanciati nel corso di questi anni. E soprattutto, una delle cose più importanti di tutte, questo canale rimarrà il più possibile privo di inglese. Basta di usarlo a cazzo di cane per qualsiasi cosa. Però vi chiedo, tra virgolette, di non fare eccessivamente affidamento sul canale perché ora ripartirò a fare qualche video, sicuramente per qualche mese durerò, ma non è mai detta che a una certa mi stufi definitivamente e a quel punto dica veramente basta. Perché ribadisco che ho una vita e parecchi altri interessi, ve lo assicuro, oltre a le figurine e il canale in generale. Un'ultima cosa che vi dico prima di salutarvi, o meglio ve lo ricordo più che altro, è che nel caso il canale vi piaccia e vorreste supportarlo anche finanziariamente, soprattutto per finanziare eventuali spacchettamenti di roba orribile, eccetera eccetera. Vi ricordo che ormai come venditore su ebay e car market ho praticamente su tutto quello che ho della mia collezione, delle mie cose disponibili da vendere. Perciò se potesse servirvi qualcosa e vi va di fare un giro sui miei profili, li trovate praticamente sempre nelle descrizioni dei miei video, soprattutto in quelli degli spacchettamenti di roba nuova. E se disgraziatamente trovaste qualcosa che vi interessa a un prezzo non troppo schifoso tra roba che ho in vendita, prendete in considerazione se volete di fare un acquisto dal sottoscritto. Chiaramente solo se vi serve qualcosa, solo se volete e tutto quanto. Contate che a livello di roba per retroformati e roba da collezione vecchia, ovviamente, qualcosina ce l'ho, quindi se vi interessano queste cose potreste trovare qualcosa, ma forse anche altro, chissà. E colgo assolutamente l'occasione per ringraziare tutti quelli che fino adesso hanno effettivamente fatto acquisti da me attraverso i vari siti o direttamente da me tramite Instagram, Discord o altri canali, oppure che abbiate acquistato con i miei codici sconto sui siti con i quali sono affiliato, ovvero il Jack Store per quel che riguarda le robe coreane, carte e box di Yu-Gi-Oh! Pokémon e quant'altro, e Koyo Sleeves per quel che riguarda le bustine protettive doppie, tra virgolette, per l'extra deck principalmente. Ringrazio tutti un bel po' perché comunque è un supporto per me e il canale. Servitori, questo io credo che sia tutto. Fatemi sapere nei commenti se volete che cosa ne pensate di questo nuovo corso che il canale intraprenderà, se vi interesseranno quindi gli altri argomenti oltre a Yu-Gi-Oh! che andremo a trattare, e perciò vi do appuntamento ai prossimi mercoledì notte per il video settimanale del miglior canale di Yu-Gi-Oh! di tutto YouTube. Distinti saluti!